Non è la prima volta che un'attività legata al gruppo Callipo è fatta oggetto di intimidazioni. Spari sono già stati esplosi sia contro lo stabilimento di Maierato che contro il Popiglia Country Resort. Ora è toccato un magazzino di San Pietro Lametino, un deposito della materia prima che poi viene lavorata nell'azienda nello stabilimento di Maierato. L'allarme è stato lanciato dalla guardia giurata che in quel momento era impegnata nelle normali attività di controllo notturno all'interno dell'impianto. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Intanto si registrano decine di messaggi di solidarietà sia dal mondo politico senza distinzione che da quello imprenditoriale. Pippo Callipo, forte anche del suo segno ricevuto, non ha comunque intenzione di cedere a nessun ricatto. Non cedo di un millimetro, vado avanti sulla mia strada che mi porta a denunciare ogni tentativo di intimidazione alle forze dell'ordine, ha dichiarato. E questo è il messaggio che vorrei fosse raccolto dai giovani. Nessuno mi ha chiesto soldi o altro, aspettano che sia io a contattarli. Ma io conosco un'unica strada, quella che porta alla stazione dei carabinieri o al commissariato di polizia per denunciare, ha aggiunto l'imprenditore. Così come ho fatto per le altre volte che ho subito un danneggiamento. Nello stesso tempo però lancia un ulteriore allarme che riguarda la poca sicurezza che persiste in tutta l'area industriale, ricordando che le telecamere di sorveglianza presenti nel sito sono fuori uso per mancanza di manutenzione, rendendo tutta la zona poco sicura e quindi alla merced di qualsivoglia malintenzionato.